Vi siete mai accorti che il manubrio di questa bicicletta sembra un po' i tentacoli degli anime? Cosa stai dicendo? Non sono proprio anime, sono più hentai. Poteva andare come pre-intro. Ci sta, ci sta. Mi spiegate perché ti hai dovuto vestire così? Ma perché scusa Frank? Sì, tra il mio nello Beppo, Frank. Ma non sei vero. Mi piace vestire largo, ma cosa vuoi? Non avevo vestiti oggi. Riverenze a tutta la valle spaziale. No, sei andato in coro. Ok, scusa, rifai. Riverenze a tutta la valle spaziale. È un po' remissivo. Nick, allora no, dovete sapere da casa che oggi stiamo registrando due salotti di fila. Uno l'abbiamo già registrato, al secondo Nick arriva che si addormenta. Io, Nick, non riesco a capire come sia possibile questa cosa. Eh, una volta, facciamo i salotti più corti. Sono ancora più corti adesso. Sono ancora più corti adesso. Ma non è? Finiamo. È perché tu adesso hai un ruolo primario. Il ceppo mi stanca. Poi scusami, in media, quanto stanno durando questi salotti? Pochissimo, pochissimo. Mezz'ora. Ma vale. Ah, dici che... Tu ti si cambia e tu sei l'unico che è rimasto uguale. Certo. Nick, la schiena. Dritto, dritto. Di cosa parliamo oggi? Tante volte vediamo nei film o studiando la storia o leggendo i fumetti dei personaggi cattivi che però li guardiamo e diciamo che figo, cavolo, vorrei essere lui. Anche non nei fumetti, nei film, ma anche nella vita reale. Nei cartoni. Quante persone cattive, quante persone che hanno commesso atti impuri, macabri. Siamo tutti bravi a dire che superpoteri vorremmo, che cose belle vorremmo essere, eccetera, ma quando si va nel marcio, quando si va nella cattiveria, dove ci sentiamo rappresentati? Da che cattivo, considerato in maniera generalissima, fumetti film, storia, vita, sentiamo rappresentati? Oppure, ecco, se magari uno di noi oggi non ha in mente un personaggio preciso, può anche semplicemente dire quali caratteristiche vorrebbe avere. Vorrei ricordare che Nick, prima di questo salotto, era in totale contrasto perché mi ha detto che il suo cuore è puro e benevolo. Però Nick, scusa, il padrino, tu stai guardando una famiglia di mafiosi, però ti affezioni e dici, cavolo, che figo, lui vorrei essere lui un pochino. Non hai mai visto il padrino? Non hai mai visto il padrino? Non hai mai visto il padrino. Io scusa. Un Peaky Blinders, alla fine loro sono cattivi. Come alla fine, eh, che spugno. No, alla fine. Alla fine. Io forse c'ho qualcosa. Vai, Nick, vai. Vabbè, mi battesco, battesco. Prima il contrario, poi ce l'ho subito. Vorrei essere un po' tipo… Tom di Tom & Jerry. Un ladro, uno di quelli che fa le rapine nelle banhe. No, ce l'ho. Perché? Esatto, un Lupin. Un Lupin. Fare così non è cattivo, ecco. Non è cattiveri. Ma come? Cattivissimo. A me affascina un po' la cosa di fare i colpi. I colpi. Quindi essere un genio della rapina. Esatto. Ma tipo Lupin. Lupin è cattivo. No, non è buono. È cattivissimo di rubare la gente. È un criminale internazionale. Precchio, con caldo. È vero. È gentile, non è buono. Io credo che… Animo buona cosa che ruba tutti. Io credo che in questo salotto… Frank… Il mercato per eccellenza di Frank è rubare. Quindi lo senti Lupin l'avrò visto sempre. Magari, puoi dire, è gentile dai poveri. Lupin è un ladro, punto. Allora vorrei essere Lupin. Solo perché ti affascino i colpi in banca. Mi affascino a rubare le cose. Perché lì c'è del genio. No, non è da dire questo. No, mi affascina, scusami. Posso dirlo? Alla fine, dietro quelle cose c'è del genio. Frank, un cattivo può essere il dipendente del McDonald's che non si lava le mani. Quello che starnutisce e continua a fare i panini. No, ignoranza quello. Ok. Allora, in cosa ti identifichi? Sicuramente, più che identificarmi, nutro un sacco di stima verso alcuni cattivi. Darth Vader per me è un figo incredibile. Proprio stima. Però perché Darth Vader? Io l'ho sempre visto come un sottone, alla fine di tutto. Anch'io, anch'io, vero. Lui non è che vuole far del male. Però è uno che, come dire, ha sposato una causa e anche Saruman, lui si fa un po' traviare. Ma forse Saruman. Voldemort va. Voldemort è figo perché cerca la conoscenza, vuole sapere tutto. Eh, Voldemort è un bel villain. Alla fine si fa sconfiggere da un ragazzino. Beh, oddio, non ha 25 anni. Ti cade un sacco. Ti cade un sacco. Ti cade a parecchio. Ridicolo. Quelli che squartano la gente, no. Poi, Hannibal Lecter e quelle cose lì. Invece io. Eccolo, eccolo. Mi affascinano tantissimo i serial killer. Vero. Soprattutto quelli che, non dico squartino le persone, però inscenano… Il film Seven. Seven, è vero. Ah, esatto. Esatto, inscenano delle morti super artistiche. Ma anche, banalmente, True Detective, no? Quando parte all'inizio che trovi cadavere con le core… Cioè, è tutto molto artistico. Vorrei essere un serial killer che… No, quelli che hanno un grande piano, che hanno studiato tutto. Ed è arte. All'inizio anche. Esatto. C'è un filo conduttore dietro a tutte le morti. Uccide determinati tipi di persone. Non a c***o. Non a caso. Anche io. D'accordo, ma mi ricordo che avevo letto di questo serial killer, non mi ricordo di che città, forse Chicago, tipo nell'Ottocento, che lui viveva… Un cesore di cereali. No, lui praticamente aveva una locanda sopra una farmacia e la gente andava lì a dormire e lui aveva creato questo meccanismo assurdo di stanze. Per cui c'era la stanza con l'acido, la stanza col gas. Scusami. Uccideva tutti. Ma è solo. No, beh. C'è Dias Winnie Todd che fa le torte con… Winnie Todd è un barbiere. Gli arrivano le persone per larsi la barba e lui con rasoio gli recida la barba. Sì, però a notte è più banale. No, aspetta, no, no, no. E poi ci fa i tortini di carne che vende al ristorante che ha sotto questo barbiero. Eh, così già c'è un grande piano. Pure esempio reale la saponificatrice di Viareggio. Viareggio, mi pare. L'avete mai sentita? No, no. Scioglieva nell'acido le persone, ci faceva i saponi. Bellissimo, cioè con le ossa delle persone ci faceva il sapone. No, vabbè, ok. No, ma è chiaro. Ritirerai giù un attimo. Per me è fighissimo. Poi io voglio sapere un attimo, secondo la tua sensibilità, Frank, che sei un po' un grande punto interrogativo. Death Note. Il protagonista, fondamentalmente, trova questo quadernetto dove se tu scrivi il nome di una persona di cui conosci il viso, questa persona muore per un motivo che tu scrivi e lui lo usa per ripulire il mondo dai criminali. Praticamente diventa giustiziere divino e uccide i criminali. Lo sbagliato è un cattivo. È considerabile cattivo. Sì, è cattivo e sbagliato. Però sarebbe figo. Ti piacerebbe? È un grande fardello perché tu entri nella convinzione che lo stai facendo per il bene, però comunque ti stai prendendo delle responsabilità. Ma poi è il tuo bene. No, lui ripulisce il mondo. Sì, ma con il suo giudizio. Con il suo giudizio. Beh, il criminali ha messo delle regole. La giustizia, lo stato, i magistrati. Non è un po' che mi affascinano. Sono Team Rocket. Allora, a me piacciono principalmente quelli che lo diventano per forza di cose. Cioè, che hanno avuto così tante sfighe. A un certo punto dici, o divento uno st***o apocalittico. Tipo gioca. Tipo gioca. No, ho pensato molto di più ad Harvey Dent. Due facce. Cioè, lui diventa così perché, poverino, è in mezzo a tutta la cosa. Rimane sfigurato per metà. A un certo punto flippa e incomincia a flippare la sua moneta. Poteva anche fare altro. Poteva fare altro, però capisco che la vita ha portato a quello. E quindi questa cosa qua, diciamo che hai il passato completamente turbato e a un certo punto lo diventi, mi affascina. Ma che è Harvey Dent? Due facce. Due facce. Un villain però che mi ha completamente fatto riscoprire la figura del cattivo nei film di me è stato Gustavo di Breaking Bad. Bell. Perché il fatto di vedere una persona così posata calcola ogni minimo dettaglio che per assurdo da fuori non è che ti sembra buono, ma dici, lo fai in una maniera eccellente in modo tale che nessuno si accorga mai che lui fa questa cosa qua. Per me lui è un cerbiatto. Perché anche appena c'è qualcosa che non va, che non lo convince, fugge via. Mi fa impazzire perché alla fine in realtà è calmo da fuori. È calmo da fuori ma è cattivissimo dentro. Ma tra l'altro adesso che hai detto Breaking Bad, c'è lì tutti ci medesimiamo in Walter. C'è cattivo. C'è un c***o incredibile. C'è un criminale. Vabbè, ok, sì. Però anche lì sei in quel limbo del giustifico o non giustifico. È un criminale, si faccia la droga. Ammazza anche le persone. Esatto. Fai le cose. Ultima menzione però mi devi aiutare te. Il nemico di Far Cry. Pass. Lui mi ha fatto impazzire. È così folle, così fuori di testa, così drogato. Lui è drogato nel videogioco, cioè si fa di acidi e cose che mi ha fatto impazzire. È bellissimo. Nella storia, Giulio Cesare. Però lì... Napoleone, esatto. Napoleone era un figlio di p***a. Vabbè, ma regala. Però chiunque, a nessiasi sovrano. Noi ci medesimiamo e diceva che bravo, che figo. In realtà era uno che... In realtà tutti facevano le loro porcate, Frank. Mi piacerebbe provare ad essere Kim Jong-woo. No. Se no, la regina Elisabetta. Lei è un botte. Adesso è inutile. Vabbè, ok, però a me è una figlia. Lei è buona. Kenny West. Kenny West. Kenny West per me è un bel villain. Ted Boundy, fighissimo. Io vedo un serial killer come può essere un Ted Boundy. In realtà un genio. Poi lascia stare che l'omicidio è perseguibile legalmente. Ah no, ma è anche sbagliato. Dai, non è anche sbagliato. Non è solo perseguibile legalmente. È anche sbagliato. Usano il loro genio nel modo sbagliato, ma la ci sta. Secondo me, se noi andiamo sullo storico, chiunque si può definire villi. Ma sai perché sarebbe figo diventare tipo un Putin? Ibrahimovic. Perché vabbè. Diventare un Putin diventa intanto un meme. Che bello. Puoi vivere una vita superagiata sicuramente. Ma io sarei curioso di scoprire le cose che sa lui. Cioè lui sicuramente sa delle cose pazzesche. Far ammazzare la gente comunque. Vabbè ma a prescindere da quelli. A me va un botte affascinato come villain, ma perché è uno sfigato dall'inizio alla fine, ma è giusto che sia così ed è bellissimo il sentimento che prova. Commodo. Commodo del gradiatore. A me fa impazzire perché lui, poverino, ha un sentimento di vendetta per tutto perché è ripudiato dal padre. Si vuol fare la sorella che la sorella non lo vuole. Proprio alla fine perde pure. Cioè riesce a rimanere ucciso dall'interno del Colosseo. Però secondo me, per come lo interpreta, è fighissimo. Stupendo. Essere anche un villain che prova vendetta, ma è sfigatissimo, mi piace un bocca. Ti piace? Io so qual è il cattivo più brutto dell'universo. Winter Soldier. Ah, merda. Che m*********o. Nessuno vorrebbe essere Winter Soldier. No, infatti è un po' fastidio. Nessuno vorrebbe essere Winter Soldier. Ma neanche quando diventa buono. Ammetto che però anche un villain che mi piacerebbe essere per una volta, così per provare, è essere un vigilo urbano. Che è un villain. Non è un villain. Ma cosa hai detto? Dai, ma guarda. No, no. Uno di quelli che fa le multe sugli autobus. Sono i controllori dei bus. Quelli sono dei grandi villain. Quelli che fanno le multe. Ma non è vero. Quelli sono i veri villain. Completo rispetto per la professione, però essere un vigilo urbano che fa la multina, quella un po' insensata. Tanto per portare soldi al comune. Tanto per portare soldi al comune, quello è… Controllore dei bus. Frank, non mi guarda così. Dai, ammetti che qualche volta ho… Cioè, noi non diciamo che le multe siano sbagliate. Sono giustissime. Certe volte in cui si trova il pelo nell'uovo… Quel tipo di vigile urbano lì. Quello puntiglioso. Sì, quello che hai lasciato la macchina con le quattro frecce in un posto magari in cui… Cioè, sporgevi di un angolo, arriva e ti fa il multino. Capito? Cioè, quelli che fanno davvero i controllori dei bus di lavoro fanno… Distruggono la vita della gente. Ma non dicendo… Uccidono la vita della gente. Ma non è vero. Ma sai quanto è una multa? E sai chi prende i bus? Ma chi non ha soldi prende i bus? È bassissima. Gli altri hanno gli elicotteri. Ma secondo me, e Nick lo confermerà perché ci va spesso un altro villain incredibile, è chi lavora alle poste. Spesso c'è… Mamma mia. No, lì vai da un estremo all'altro. No, non possiamo incappare in queste cose. Vai dalla persona più carina del mondo alla persona che non vuole che tu spedisca quel pacco. Ma di tutto perché tu non lo spedisci. In generale, in tanti lavori diciamo in cui hai contatto col pubblico, quando quella persona non ha palesemente voglia di fare quel lavoro diventa… Ci sono tante… Però vedi, vedi. Adesso prendete un piccolo disclaimer. Totale rispetto per chi fa questa professione e stiamo naturalmente scherzando e si va da un estremo, come dice Cesare, all'alto. Cioè c'è chi si comporta un pochettino più duramente e chi magari è un pochettino più tranquillo. Quindi noi abbiamo catalogato dei corrieri che sono palesemente dei villain. Sì, sì. Dei corrieri che sono nostri… Soprattutto Nelson che in fase di quarantena gli venivano dati i pacchi, dandoglieli in mano e lui che diceva no, lasciameli fuori. Senza mascherine. Senza mascherine. E questi che gli ridevano i pacchi. Ma scusa, ma quelli che lanciavano i pacchi… Devevamo fare un salotto a parte i nemici della vita. O le multe che abbiamo preso anche. Io dovevo pagare una. Io no. È vero, ne ho presa una. Sei un villain allora, Frank. Sì, però era una di quelle con la telecamera perché la notte ho sbagliato un cartello e sono andato su una preferenziale. Ah, eh. Me lo diceva Gullala. Un villain. Un villain. Un villain. No, è vero ragazzi, ci sono un sacco di professioni, ma anche di gente comune che incondi tutto il giorno e anche il tizio che porta a passeggio il cane che possono essere catalogati come villain e magari ci potremmo fare un'altra parte. Scriveteci qua sotto nei commenti naturalmente i villain che vi hanno più ispirato nella vita. Ma facciamo giusto per recap, perché io non ho capito un caso. Stimato, scusate. Allora, un villain a testa che vorremmo essere. Uno. Vai Cesi. Allora ti dico la saponificatrice di Viareggio. Aspetta, fammi vedere se è veramente di Viareggio. Nick. Lupin vale? Sì, sì, sì. Allora Lupin. Frank. Dark Raider. Light Yagami di Death Note. No, ho sbagliato. Scusate, non è Viareggio, è Correggio. Io voglio essere... Uno, dai. Vuoi essere Gustavo. Ma non sarei mai Gustavo della vita. Vabbè, neanche io sarei mai Dark Raider. Faccio il Gustavo. Hai Gustavo. Dai. Commodo. Perché ti piace tua sorella? No, dai. E ci vediamo martedì, direi. Arriverezze. Ma perché chiudiamo sempre in maniera così cringe? Ma come fai? Perché non abbiamo quel saluto... Cioè... Ma basta che uno dica ci vediamo martedì, ciao. Eh, ma è che è corto. Cioè, sono youtuber che ho tutto uno slogan incredibile. Stai parlando?